Il Vallo di Diano piange il sindaco Rocco Giuliano, primo cittadino di Polla. Era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico qualche giorno fa. Purtroppo, a causa di complicazioni, non ce l'ha fatta. È morto ieri pomeriggio presso il Policlinico di Napoli. Per oltre 40 anni è stato un uomo attivo nel mondo della politica e non solo. In tanti lo ricordano come un uomo politico molto vicino ai cittadini. Oggi alle 17 sarà allestita la Camera Ardente presso l'Istituto Omnicomprensivo, i soldi. L'accesso all'auditorium sarà consentito solo a soggetti muniti di mascherina e sarà contingentato dal personale delle onoranze funebri, evitando la contemporanea presenza di 30 persone e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. All'interno dell'auditorium non sarà consentito sostare né intrattenersi oltre il tempo necessario ad un brevissimo momento di raccoglimento. Domani, 2 giugno, dalle ore 15, si terranno una serie di discorsi istituzionali, prima nelle scuole medie, poi la benedizione della salma presso il cimitero di Polla. Il vice sindaco Massimo Loviso, per le giornate di ieri e oggi, ha proclamato il lutto cittadino disponendo la partecipazione dell'amministrazione comunale alla cerimonia funebre con il gonfalone listato al lutto e l'esposizione della bandiera comunale a mezz'asta.